Al via dal 4 a 6 settembre a Fabriano il forum UNESCO delle Città Creative 2015 per discutere su come fare della creatività e della cultura un'asse importante del proprio sviluppo economico annunciata la candidatura di Fabriano a ospitare il forum mondiale Città Creative 2017. 78 aziende partecipanti, 53 eventi e laboratori, 25 partner pubblici e privati per Fabriano e Creative City una grande opportunità per la città della carta e per l'intera regione. Avere una città che ha riconoscimento UNESCO come città creativa va vista come un'opportunità che non si limita ovviamente a quello che può esserci di positivo per Fabriano ma per l'intera regione Marche. Quella della creatività è una dimensione sulla quale ci giochiamo tante opportunità per il futuro ed è l'elemento sul quale possiamo costruire un'immagine forte per l'intera regione Marche. Fabriano ha pienamente aperto le porte al contributo di tutti anche perché mi era un obiettivo ambizioso quello di portare nel 2017 il forum mondiale delle città creative. Quindi allargare la dimensione, un'opportunità per tutte le Marche significa poter tutti quanti cosere di questo canale. La regione Marche ovviamente è a pieno dentro questo percorso perché ritiene che tutte le opportunità che abbiamo di dialogo verso l'esterno oggi significano opportunità da tanti punti di vista da quello dello sviluppo, dell'economia, delle relazioni e dall'altra parte vuole essere un po' da catalizzatore per quanto riguarda la partecipazione anche di altre realtà creative presenti, forte nelle Marche perché la nostra caratteristica è quello di essere capaci di fare impresa e cultura appartenendo alla creatività che diventa veramente lo strumento di catalizzatore per mettere tutti assieme attorno a questo progetto. Una bella sfida da giocarci insieme sia grazie al riconoscimento UNESCO sia grazie all'opportunità che questo può aprire. Quattro le fucine creative in altrettanti siti storici del centro cittadino con focus su artigianato tradizionale, biodiversità artigianato digitale, cucina creativa e prodotti di territorio. L'ordine degli architetti di Ancona realizzerà una giornata evento mentre ristoratori e bar di Fabriano offriranno menù creativi e street food made in Marche. I visitatori saranno accolti in piazza del comune da un giardino della biodiversità mentre nel chiostro di San Benanzio protagoniste saranno le start-up e le realtà imprenditoriali di nuova generazione. Sotto il loggiato di San Francesco spazio alla creatività delle mani e infine al mercato coperto show cooking con il team Cuochi Marche e produttori di specialità enogastronomiche.